E allora, ciao Gari, io sono Franco Sparacino, il nonno di questi due fenomeni, Giada e Gaia. Non capisco perché ovunque vanno a fare queste gare di balle vincono, vincono sempre. Io dico non capisco ma lo so perché sono molto bravi. I Mini May sono un gruppo di ragazzi che ballano hip hop. Qua siamo con tutta la famiglia a Parigi, stiamo passando questi quattro giorni bellissimi. Ringrazio Mauro Torta di questo video che ci sta facendo e spero che al più presto lo vedremo su Italiano all'estero. Grazie, grazie Mauro, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.